allora ragazzi cari riaccomi qua innanzitutto un saluto a tutti allora in questo video vi farò una video recensione di un prodotto che avevo acquistato più o meno un mesetto fa e trattasi proprio di lui ovvero l'amazfit bip s light uno smartwatch che devo dire dopo il suo acquisto ne basta la pena di passare da mi band 5 che attualmente utilizza la mia fidanzata questi sono particolari a amazfit bip s light uno smartwatch che ne vale davvero la pena di acquistare quindi devo dire che recupera qualche funzionalità ma ne perde qualcuna ma ve le parlo subito dopo la allora ragazzi per chi mi conosce qui su canale sa sicuramente che io quando porto la recensione di qualche dispositivo beh parto sempre dalla confezione di vendita questa volta non quella esterna ma quella interna a quella esterna sì ok scusatemi il gioco di parole ma volevo dirlo ed è una confezione molto minimal con il logo amazfit stampato sulla parte superiore all'interno di essa troviamo la solita manualistica delle istruzioni tradotte in varie lingue troviamo l'alimentatore proprietario di tipo osba e infine troviamo il nostro amazfit bip s light iniziamo subito a parlarvi di lui come fatto come non è fatto poi dopo passiamo alle funzionalità allora innanzitutto cinturino in gomma molto leggero che non da nessun tipo di fastidio che una volta che lo avete indossato e io personalmente che lo indosso tutti i santi giorni giorni e notte e devo dire che quasi dimentico di averlo indossato perché credetemi così leggero questo smartwatch veramente che dimentico di averlo indossato con sé porta anche un display da 1,28 pollici tft rgb 64 e porta anche la protezione gorilla glass 3 ed è anche impermeabile all'acqua e resistente alla povere quindi sappiate che magari se gli fate andare eccedente dell'acqua sul dispositivo una nuotata in piscina al mare insomma qualsiasi cosa sappiate che è resistente ad acqua e polvere poi per quanto riguarda il display non solo lo riusciamo già a vedere così perfettamente com'è ma riusciamo a vederlo perfettamente anche sotto la luce diretta del sole quindi come potete vedere una volta che abbiamo attivato il dispositivo beh lo riusciamo a leggere le sue informazioni anche con tanta di quella luce che arriva direttamente da sole scusatemi il gioco di parole ma non so sto delirando in questo video ma va bene a di là di questo e poi infine sulla parte laterale destra troviamo un unico pulsante che ci consente di sbloccare o bloccare il dispositivo e ci consente anche di entrare nel menu delle varie impostazioni dove possiamo attivare o disattivare le sue funzionalità poi dall'orologio stesso possiamo muoverci attraverso gli swipe con uno swipe da sinistra verso destra o viceversa possiamo andare a leggere tutte le informazioni che riguardano il meteo i passi battito cardiaco e quant'altro quindi sia da un lato e sia dall'altro lato possiamo avere le stesse informazioni mentre invece dall'alto verso il basso apriamo il pannello dei toggle ovvero dei quick settings dove possiamo attivare o disattivare le sue funzionalità mentre invece dal basso verso l'alto possiamo andare a recuperare tutte le notifiche che ci sono arrivate e credetemi la connessione funziona veramente molto molto bene con il nostro dispositivo perché ha un bluetooth 5.0 allora da questo smartwatch tutte le funzionalità di per sé non è che le possiamo andare attivare o disattivare tutte ma con sé porta l'applicazione chiamata zep l'applicazione per dispositivo android la trovate su play store mentre invece per dispositivo ios ovviamente su app store e una volta che l'avete scaricata una volta sincronizzato il dispositivo sulla home page ci mostra tutte quelle informazioni partendo dalle informazioni relative alla batteria dati relativi a sonno dati relativi alla nostra attività sportiva camminata passi chilometri battito cardiaco e quant'altro quindi devo dire che una home page molto ricca di informazioni poi abbiamo anche un menu delle impostazioni dedicato dove possiamo andare ad attivare o disattivare le funzionalità dell'orologio ovvero dello smartwatch sincronizzare il nostro profilo e quant'altro quindi devo dire che anche l'applicazione è stata fatta in modo davvero molto molto bene ricca di funzionalità io all'interno di quelle funzionalità mi ci sono perso e dall'applicazione stessa possiamo gestire i 12 tipi di attività sportive uno diverso dall'altro quindi da nuoto alla corsa alla camminata al ciclismo e quant'altro quindi dall'applicazione possiamo gestire tutti dei 12 tipi di modalità diverse di sport ma io all'inizio quando vi ho parlato dell'applicazione vi ho parlato anche della batteria allora se ci fate caso beh sulla schermata della home page dell'applicazione ci mostra subito i dati relativi alla batteria e come potete vedere prima di questo video io l'amasfit l'avevo caricato sei giorni prima ovvero sei giorni prima di fare questo video e ancora adesso lo tengo al 47% ed è già da una settimana che lo sto utilizzando dalla sua ultima ricarica e lo sto utilizzando veramente in modo molto molto stressato tutte le notificative tutte le impostazioni attive tranne che per qualcuna che non mi serve e devo dire che per quando riguarda la durata della batteria ragazzi è top perché io con questo dispositivo con tutte le funzionalità attive o quasi riesco a completare due settimane di autonomia e devo dire che mi ha sorpreso veramente molto perché il mio vecchio mi band 5 non mi permetteva di arrivare a così tanto con la batteria ma al massimo quattro giorni la batteria si scaricava e mi toccava ricaricarla quindi con questo qua il più delle volte dimentico di avere uno smartwatch quando mi viene in mente la vado a guardare e dico ok ho ancora tanta altra carica da restare da poterlo utilizzare per qualche altro giorno quindi per quando riguarda la durata della batteria ragazzi veramente è top non me lo aspettavo poi per quando riguarda la stessa batteria la ricarica impiega più o meno un'ora e mezza alla ricarica completa forse nemmeno ma diciamo che un'ora e mezza è molto più che sufficiente per portarlo dallo 0 al 100 per cento quindi ragazzi batteria promossa a pieni voti allora io da quando l'ho acquistato non posso farne a meno l'utilizzo tutti i giorni ogni giorno vado a controllarmi tutte le mie statistiche sono camminata tutte le varie attività che mi mette nella home page e quant'altro battito cadico vabbè ragazzi devo dire che è un dispositivo pieno di funzionalità solo che però il nostro carissimo amazfit bip perde una funzionalità che io ritrovavo sul mio xiaomi mi band 5 ed è quella della la funzionalità dello stress quindi deve quella la regolata lui la presta ma va bene me ne ferisco l'importante che ci siano altre funzionalità beh ragazzi devo dire che mi ci sto trovando veramente molto molto bene allora per quanto riguarda il suo prezzo io l'ho acquistato attorno ai 35 euro ma forse è calato ancora di qualche euro e qua in basso trovate il link non solo per poterlo acquistare ma da quel link potete avere anche qualche altro tipo di informazione tecnica che io non sono riuscito a dirvi in questo video quindi qua in basso nella descrizione trovate il link ad amazon per chi ha l'account prime lo può acquistare con account prime insomma se volete informazioni e perché non magari acquistarlo trovate il link qua in basso in descrizione allora ragazzi io finisco qua questo video perché siamo arrivati alla fine vi ho detto un po la mia come mi ci trovo diciamo insomma la mia esperienza utente personale ovviamente pare da persona a persona perché l'esperienza è soggettiva ma a di là di questo adesso voglio sapere la vostra qua in basso nei commenti se ma anche voi magari vi fosse piaciuto se lo utilizzate se lo comprereste insomma ditemi la vostra qua in basso nei commenti ecco allora questo video vi fosse piaciuto vi raccomando lasciate tutti i vostri pollicioni in su e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale ve lo dico sempre continuo continuerò a dirvelo fino a quando non raggiungiamo un bel risultato poi beh una volta iscritti attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita ma soprattutto condividere questi video così facendo l'unico contributo che potete danni non costa nulla gratuito quindi ragazzi dai veramente aiutatemi a crescere ancora di più rispetto a quello che attualmente il canale e oltretutto ve lo ricordo all'animazione come sempre mi trovate anche su instagram che ho cela mitico snake e noi ci vediamo sempre qui non so magari si arriverà domenica il video lunedì non so devo rivedere questa cosa perché per impegni lavorativi durante la settimana non riesco a girare il video ma riguarda un po sta cosa ma fatto sta che il video uscirà comunque alle 11 e noi ci vediamo settimana prossima qui sul canale sempre alle 11 un saluto da raffaele e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao